Mattinata di proteste a Napoli, centinaia di studenti hanno spilato per le vie del capoluogo partenopeo in un corteo contro l'alternanza scuola-lavoro, scontenti di un sistema che definiscono deleterio per la loro formazione, la loro istruzione e anche il loro lavoro. Partiti da Piazza del Gesù sono arrivati sotto la questura di Napoli, accompagnati da numerosi striscioni, come siamo studenti, non siamo operai e con un unico grido vogliamo essere formati, non sfruttati. Lungo il tragitto sono stati accesi fumogeni ed esplosi petardi. Arrivati alla questura hanno esposto l'ultimo striscione contro il G7 in programma la prossima settimana a Ischia. Minniti, Napoli, non ti vuole. Ascoltiamo alcuni studenti. Allora siamo in piazza perché noi siamo contro la buona scuola, noi non andiamo a lavorare gratis per altri, non togliamo posti di lavori alle persone che li meritano davvero. Noi scendiamo in piazza per protestare perché la scuola siamo noi, non è il cazzo di Stato, siamo noi. I studenti napoletani sono tornati in piazza per dire no allo sfruttamento, no alla precarità che ci costringono a vivere, ci fanno credere che dobbiamo andare a lavorare senza essere retribuiti e che questo sia scuola, questo non è scuola, questo non è altro che sfruttamento delle nuove leve. I ragazzi vogliono studiare, devono avere il loro diritto allo studio, ad imparare e non a lavorare gratis per qualcuno.